E' deceduto nelle prime ore di questa mattina Oscardo Severi, l'imprenditore della SEA Group, la società fanese che si occupa principalmente di sicurezza sul lavoro, ma anche di ambiente e rifiuti. Era un imprenditore illuminato che era riuscito a sviluppare la sua impresa dal livello locale a quello regionale e poi nazionale, operando in un settore, quello della sicurezza degli ambienti di lavoro, quanto mai emergente, dato il verificarsi, purtroppo, di sempre più incidenti. Uno dei primi ad esprimere le sue condoglianze e a rilevare come fanno per da un personaggio di valore è stato il sindaco Luca Serfilippi, che ha messo in evidenza come Oscardo Severi sia stato un pilastro della nostra comunità. Un vero pioniere, ha detto, avendo promosso una riflessione profonda su temi cruciali come i diritti e le disuguaglianze attraverso Carton Sea, il premio nazionale di umorismo e satira che lui ha lanciato. Inoltre, come presidente del Motor Club Lucio Ricci, ha saputo trasmettere la sua passione per i motori. Le mie più sentite condoglianze, ha espresso il sindaco, vanno a tutti i suoi familiari e amici. Serfilippi ha messo in evidenza le tre caratteristiche che hanno improntato la vita di Severi. Quella di imprenditore, messo in evidenza anche da Giacomo Mattioli, l'attuale presidente dell'AZ Spa, dipendente della ditta, ora in aspettativa, che deve ad Oscardo Severi la sua formazione lavorativa. Quella di aver lanciato il concorso Carton Sea, un'idea geniale che attraverso l'umorismo e la satira induce alla riflessione sui temi più attuali del rispetto dell'ambiente e quella della sua passione per i motori, come collezionista d'auto d'epoca e come ex presidente del Motor Club Lucio Ricci. Coloro che volessero tributare l'ultimo saluto a Oscardo potranno recarsi domani dalle 14 alle 19 e domenica dalle 8 alle 12 alla camera mortuaria dell'ospedale Santa Croce. Poi lunedì mattina alle 9 la salma sarà tumulata direttamente al cimitero urbano, così come è la volontà della famiglia.